Ah, stupido bolso, io speravo sinceramente che il tuo musical durasse un pochetto di più No, l'abbiamo finito, e porco Dio, è stata una fottuta figata Oh, ma ti giuro, l'unico che quando iniziamo non bestemmia è la gente ribelle Te, Pioloca, e Poli... Siete dei... dei cassoletti Dai, fai bravo, la prossima volta ti porterò un estratto del musical che vi ho fatto Noè, è l'arca madonna Ascolta, la smetti di tirare delle madonne Ma por... è il nome del musical, lo ci devo fare, oh Dirti, gli allegri gatti che si fa andare in c***a No, e basta, oh Bella raga con X, bentornati sul canale, oggi siamo tornati ragazzi su Fortnite Oggi, atterro qua perché volevo atterrare al boschetto, ma per colpa del bolso mi sono stordito Mi sono stordito, ho detto Ma ragazzi, spero servite come anche per la caccia di Anna, con una bella like, un polluzione di supporto Magari commentatemi sotto come ho scritto il tattico ragazzi, perché abbiamo tatticato male sul tipo Allora, ragazzi, come avete sentito bene, il bolso ha fatto il musical Il bolso ha fatto il musical per il prete di Land Letali, quello tra qui Tra l'altro abbiamo fatto l'episodio l'altro giorno Sai bolso che ha perso sua figlia, il... il coso, il porcaro, il prete Tempo fa, provai a rimorchiare la figlia del prete, ma lo stesso porco mi riempì di mazzate Non ci credo, quale pazzo ti vorrebbe... come al genere Comunque, ci ha pensato la gente ribelle, è stato tutto a finire bene, abbiamo completato tutto quanto Anche se... devo dire che è un po' strano il tuo amico No, ma alla fine è un bravo ragazzo, da piccoli andiamo sempre a prostitute assieme Vabbè, vediamo di fare in fretta così, se riusciamo a farci qualche kill in early non fa schifo Anche bene, qua non c'è quasi mai nessuno, quindi... Allora, il tipo è lì dentro, se magari andiamo piano, disempiato, come fanno i topi? Aiuto, i topi, aiuto! Stai zitto che ci sente, porco due Ragazzi... eh no, ci ha sentito, porco due qua No Ok Oh, no, allora, il DL lo fai tu madre, ok? Ok, ok, ok Io ho fatto una grandissima puttannata io, perché se non ballavo andavo spesso, vabbè Trenemola al ground, vabbè Vabbè, allora, Rosita, allora, se tu stai lì sopra e mi prometti che fai le uova Io ti ho putto giù Ok? Da bravo, Rosita Da bravo Adesso mi fanno dare questo idiota qua sotto Tiene le strette le uova, non farle cadere Ok, vediamo se fa la brava Rosita Dai che non ho neanche materiali, Rosita Bello, bello Rosita Adesso per take DL Porca trà, Rosita, allora Guarda che frittato Sono cadute tutte le uova Tutte le uova, sono cadute tutte Posso mangiare niente qui, niente Bravo, Bolsa Ascolta, ma giusto per spezzare questo imbarazzo che c'è tra di noi Che cazzo dici, che imbarazzo c'è brutto idiota? No, dicevo così, per alledare la tensione Ecco, ti piacciono le foche? Porco di s***, ieri durante la colorazione delle pene È successo un casino Ti sono accorti che andavo bene per l'arrosto E hanno cercato di tirarmi il collo Rosita Ti troverò E il collo Ti tirerò Sta arrivando un go-kart Con un tipo che ha la madre Che vende La patata Ragazzi Ragazzi Lai ground Ombre Lai ground Come la prende? Rosita Capito Rosita You can take my eye ground Ragazzi C'è un tipo che mi sta distruggendo la struttura C'è un tipo che mi sta distruggendo Chi è che me Oh, ma ti infili quella R Cioè, ragazzi Ma quanto si facesse Il cazzo Loro sarebbe Bello Quanto sarebbe bello Quanto Ho perso la frontezza No, usiamo Effetto C'è il soltoppi Aiuto 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 Ragazzi Il tipo non mi rompeva le palle con la R Io ero bello qui sopra E invece no E invece siamo In situazione di merda Rosita Ahia, Rosita Però sei una grandissima vacca Fatelo dire No 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 Allora, si metterà trap Eh, guarda Scontato come saldi Poltrone se fa Uguale Ora, cosa E tu Rosita No, Rosita Ragazzi La mia galina Non vuole essere Non vuole prostrarsi a lui Per farsi tirare il collo E questo è un problema Dove sta Qua Sì Che fai, Rosi Ah, Rosi Bella mia galina No, adesso non scappi Eh, non scappi Ok Ehm Con due tene Bella mia Rosita No 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 Oh Lord Ragà Mi piace Stavo mettendo io la scala Per proteggermi dalla Trappola La messa a lui Sì, ovviamente si è fottuto da solo La trappola Ragazzi Qua stanno facendo tiro al piccione Veramente in maniera Molto, molto professionale Tiro al piccione E' il modo carino per dire Sono dei camper del cazzo Perché vi giuro Che sono tutti i camper Oh Una venuta mia Guarda ragazzi Tutti i fortini Gente che campera col cecchino Basta Ma porco due Ma Oh Rosita Rosita Mi fai diventare le penne dure Rosita Rosita, Rosita, Rosita No 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 Dai l'urdo camper Di merda Ma guarda Che donna stupato in testa Quello Che gira cervello per un uomo O strighetta marcia Schifosa Allora ragazzi Guarda Mia bella Polla Aia Se sto concentrato su un tipo State buoni un attimo Ma l'ha distrutto Allora Andiamo in safe Ragazzi cerchiamo una zona di safe Poi usiamo il falò Che sticamo Ha rotto proprio le palle Cioè Raga qua dentro è perfetto Riusciamo a prendersi anche lo scudo Del blocco Quindi Posso fare Il falò Scudo il blocco Molto semplice Ok Ok Sì 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 erano rimasti 4 dove sono morti gli altri magari ha ucciso quello con l'egra no perchè mi piacciono tanto le foche e poi non vedono di tornare al mercato delle orate perchè ci sarà una loro sedizione guarda mi dispiace solo di non poter esserci vabbè però puoi dirmelo se ti piacciono o no le foche quello puoi farlo ora devo andare a farmi togliere sto schifo dalla faccia sembro arlechino se non fossi così religioso veste mierei fino a spiumarmi raga seconda partita pratica senza il demente così riusciamo anche magari a parlare e a dire cose ho già iniziato a leggere le quest che mi avete chiesto di far fare insomma che Policarpo deve fare di far fare il bolso quindi mi raccomando tenetevi pronti perchè a giorni avete appunto le vostre quest guarda sto sorcio guarda sto perché vi ripeto è come al solito se una quest non viene scelta per un video magari può essere scelta per quello dopo tanto comunque lascerò il tag della vostra missione nel video e vedrete se appunto è la vostra o no ho trovato il mio oh madonna sto dal letto bravo ragazzi ho spostato di un millimetro e Ragnarok se stava fermo abbiamo in testa ma è ma scostumata io gli sto guarda sto sorcione allora si è tutto molto bello ma se molti mostri la faccia bravo 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 no ragazzi sto poveretto non è manco di dove sono arrivati dove sono arrivati due di cecchino senza manco di dove ti ha sparato vino una mitraglietta non è che posso fare miracoli eh riuscirò a fare nasichinati miliardi un giorno di questi porco gol Rosetta cosa ci fai in quel fontino vieni giù mia galena il mio tra l'altro ho vintato il tipo sotto a casissimo no l'ha ammazzato l'ha ammazzato Rosetta e questo guarda ho le nutrie vi è buio vengono fuori raga raga esce la notte vengono lì con i sorcetti dietro rosetta 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 non m'ha visto vedi ecco una cosa bella dello scar silenziato è che non capisci da dove canzare i vinicolpi come vedete l'ho proprio l'ho piato malissimo non se ne manca ho fatto comunque avrei voluto prendere l'rpg but non riuscivo non faccio niente a prendere lo scillone quindi per solito di fare i 50 di scuola in più ma non me lo uccida per din 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 per din 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 siamo a video family friendly ragazzi scrivete sotto i commenti family friendly un grosso abbraccio ai video belli con gli arcobaleni eccetera dopo che il bolso è iniziato con tre madonne ci sta allora raga eh si adesso attualmente preferisco la scaracca la scaraccia quindi potete crocefiggermi flagellarmi but now per il momento tengo questo hello no ragazzi è rimasto in quote grazie il cazzo si legge di sopra ok usciti no what the fuck oddio ce l'avevo dietro devo ringraziare se ragazzi quello là in fondo non lo intavo cosa mi faceva edio tranquillamente mi piace questo what the fuck what the fuck ok rosetta mostra una palla ragazzi poi c'è sempre uno nascosto che sarà un campionale perché no mi va sul ping raga mi va sul ping guarda non costruisco non riesce a fare un cazzo non mi costruisce niente è incredibile dai abbassati merda ragazzi sto colping a 300 raga a 300 ok sto bassa dai vai giù vai giù vai giù ok beh mi va di prima sicuramente merda oh martipotti che pazzie oh dove sta ragazzi no ma che palle guarda che la merda di prima lo trovo quello che una piliarda dietro questo come quella suga no 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 eh vabbè e quando c'è la mamma veramente è una puttana ci colpa il povero dov'è ah ma guardalo guardalo ok ma ce la faccio di merda dai dai benvenuti benvenuti in another episode of stupid simulare un fucking mio figlio di troio sopra il cecchino un bello camperato con il sole sta lì sopra cercando di di fottermi male e per il momento ce la fa adesso così da fai la brava un attimo che uso il medic tra l'altro ragazzi c'è uno che ignota guardalo guardalo se mi era stammare c'è anche lì di sniper quindi c'è mi zucca come cazzo vuole vabbè 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 raga ma sono un'emmalata di cuore come fa a superare sta roba seriamente oh boia la raga metterà ok e attaccati lo sprotto porca porca no no pop corn un cazzo raga pop corn un cazzo pop corn un cazzo signori adesso bello un attimo raga non muoio raga siamo partiti bene mid game come al solito non trovo nessuno end game raga ho vomitato il cuore a terra signori vittorio reale e io conciò termine qua questo video io spero vi sia piaciuto vabbè divertito tra tutto per qualche minuto ciò vi ricordo di dare un occhio ai link dei social che le trovate nel sito per commenti come al solito io vi saluto per dire il video next è tutto bella lega mi scappare il sbaguto i mi scappare il raga mi scappare il sbaglio di